Le parole del prepartita sono state all'insegna del fair play. C'è rispetto e amicizia, ha detto Stefano Bonaccini, candidato favorito, riferendosi ad Elislein, sfidante che punta tutto sui gazebo. Alle 8 in punto, nei 5.500 punti sparsi per tutta la penisola, è suonata l'ora delle primarie per la sfida alla segreteria del Partito Democratico. Quattro candidati non c'erano mai stati, sottolinea Bonaccini. Nonostante questo, nel voto ai circoli ho superato il 50% con quasi 20 punti di distacco. Schlein mira a una partecipazione alta ai gazebo. Credo che questa bella mobilitazione si trasformerà in passaparola, dice, convinta che più grandi saranno i numeri, più lei sarà favorita. La sfida, fra due proposte, in molti aspetti simili, si basa soprattutto sulla capacità di garantire il cambiamento a partire dalla classe dirigente. Lo promette Bonaccini, lo promette Schlein. Sul tavolo il nuovo segretario troverà il dossier Molise. Per il rinnovo del Consiglio regionale si vota il 25 e 26 giugno e il nuovo segretario dovrà indicare ai referenti regionali la strada da seguire. Da un lato l'area moderata, dall'altro l'alleanza con il Movimento 5 Stelle che potrebbe risultare vincente se i leader regionali riusciranno ad individuare un candidato presidente dal forte appeal capace di ripetere l'effetto castrataro che ha regalato Isernia al centro-sinistra.